L'Ordine dei Commercialisti di Napoli sta seguendo un percorso che possa permettere di valutare la vendita degli immobili pignorati prima di arrivare al sequestro penale. In questo ambito il ruolo dei nostri iscritti potrà rivelarsi fondamentale perché nessuno riesce meglio dei commercialisti a gestire le risorse della procedura con una competenza tecnica che consente di operare a 360 gradi. A parlare è Vincenzo Moretta, presidente dell'Ordine dei Commercialisti Partenopeo, nel corso del forum Pesi e vincoli gravanti sull'immobile pignorato che si è tenuto presso l'ordine dei dottori commercialisti e di esperti contabili di Napoli. Sentiamo. Il commercialista svolge un ruolo essenziale nella vendita degli immobili nelle esecuzioni perché proprio per la sua genesi, per la sua cultura economica e finanziaria riesce certamente a gestire al meglio sfruttando tutte le risorse possibili e immaginabili della procedura, non lasciando nulla al caso, avendo una competenza tecnica che gli consente di farlo a 360 gradi. Il convegno è stato moderato dal consigliere della Corte di Cassazione Luigi Abete che ha sottolineato come i commercialisti hanno già rivelato come il proprio ruolo sia essenziale ai fini della vendita degli immobili e dell'efficienza del servizio giustizia. Personalmente credo che un giudice non possa fare a meno dell'ausilio di un commercialista perché è nel patrimonio genetico di un commercialista la gestione, l'attività gestoria appartiene potremmo dire geneticamente ad un dottore commercialista. Ecco perché ritengo senza far torto ad altre imprescindibili categorie professionali che i commercialisti assolvono un ruolo assolutamente irrinunciabile ai fini dell'efficienza del servizio. Al convegno è intervenuto tra gli altri il consigliere dell'ordine dei commercialisti delegato della commissione esecuzioni immobiliari Arcangelo Sessa. Sentiamo. Stiamo cercando di dare quella etichetta e quella specializzazione ai nostri iscritti. Nell'ambito oggi della crisi la figura del commercialista tende sempre più a specializzarsi.